La partenza è già un po' deciso. Infatti il 2 è giocato la squadra in Barcellona. Chi si scusava all'entrata era in vantaggio e dovevamo essere ancora più bravi a mantenerlo giocando palloni con più cari. Invece andiamo ad attaccare come se fossimo sotto ancora e io prendo un altro passare negativo. Quindi dobbiamo essere progressivi all'inizio contro tutte le squadre perché loro hanno un talento da vendere. Se non metti le mani d'osso maggiore che aggressivo possono fare molto vuole. È un'esperienza pazzesca quindi devo essere più concentrato su questo attore. Le stesse settimane fuori sono stati due. Sì, per fortuna i ragazzi erano comportati bene. Quattro su quattro vittorie. Quindi sì, avevo un'energia addosso che non posso implementare in campo. Però bene, è bene così lo stesso. Adesso la squadra? A me è adesso ancora al 100%, almeno è normale. Però faccio contento. Simone, guardando i risultati di questa settimana senza interesse si poteva dire che Pieris non serve tanto. Invece mi sembra che tu oggi hai ripostato quanto sei importante per questa squadra e mi sembra che tu potresti essere ovviamente il rientro perfetto Sì. È stato quasi perfetto. Quasi perfetto. Parloci però della tua partita. Di quello che hai provato tu. No, questa settimana avevo sensazioni positive. Ero in carico come un bambino che doveva andare alteramente la sua prima partita. Poi con una squadra come Barcellona, una delle più forti del campionato, una partita importante per noi in casa, che dovevamo assolutamente vincere. Ero bello carico. Ho spuntato, ho messo subito una bomba, è vero, è stato un discemo. Sì, bello. Alla fine ho fatto due tre cavolate che vetti gli sbagliati. Ecco, poi ero un po' cotto. Il coach ha detto che per 10 minuti tu che non ti senti? Dalla fine risponde ti è stanco. Sì, ero stanco, però quando queste partite non senti molto la stanchezza. Se vai e giochi, la sentivo domani. Però no, sì, in effetti un po' stanco è vero, però c'era bisogno. Perché anche Ferro purtroppo si è fatto male subito all'inizio della partita. Quindi servivo e quindi affezco. Come condizione cosa sei? Ho voluto 50-60 per cento o un po' di più? No, un po' di più dai. Alla fine ho lavorato sempre con l'operatore, fuori dal chiamato. Quindi hanno fatto un ottimo lavoro. Lui è Dionti, quindi è stato bravi. Mi manca poco, un cento per cento.